Siamo alla ricerca delle marmotte e siamo a speranza di sentire il tipico allarme delle marmotte in una vallata in modo che cerchiamo di individuarle siamo appunto ricordo a gallio cioè sulle mellette di gallio vediamo che durante il percorso si possono trovare ancora delle delle grotte usate durante la guerra se vediamo bene lì giù in fondo ci sono delle trincee ancora visibili ho sentito già qualche righiamo di di marmotta e quindi penso che ci siamo vicini allora siamo nella zona buona per le marmotte vediamo che ci sono delle tane eccole qua si infilano le marmotte ce ne sono anche qui e qua sicuramente troviamo troviamo qualcosa Grazie a tutti. 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 Tornando, siamo partiti da Malga Slaupper, siamo arrivati a circa 1740 metri e lì abbiamo trovato queste benedette marmotte. Allora, un saluto da Dottor Marius e ci vediamo alla prossima. Saluto al pubblico.